Nelle scorse settimane è stato alto lo scontro e il dibattito sul problema della mancanza di fondi per finanziare i piani locali dei comuni per le non autosufficienze e altri servizi socio-assistenziali. Il problema che oggi è stato risolto, con noi c'è il Presidente della Prima Commissione Bilancio del Consiglio regionale Emilio Nasuti. Come è stato risolto, Presidente? È stato risolto innanzitutto trovando le risorse e dando immediatamente una risposta a quelle che sono le esigenze rispetto a questo piano. La Regione ha approvato i piani comuni e quindi sicuramente la Regione è tenuta anche a dare contezza di quanto ha approvato. Indubbiamente ci sono stati problemi all'interno dell'assessorato che non hanno consentito la immediata fruibilità di cassa delle risorse assegnate. Ci siamo preoccupati di questi, abbiamo fatto immediatamente una commissione presiduta da me, la prima commissione per quanto riguarda la competenza e poi insieme alla congiunta con la quinta commissione della collega Veri. Abbiamo dato perlomeno adesso un primo stanziamento di 3 milioni e 700 mila euro, ne sono 4 e 8 in tutto, però daremo contezza all'intero capitolo penso per la metà dell'anno. Il Presidente della Quinta Commissione Nicoletta Veri è stata una risposta alle istanze che arrivavano dal territorio, dalle associazioni e dagli enti locali. Sì, un grande risultato questa mattina in commissione perché è stato votato a maggioranza questa variazione di bilancio, i cui fondi sono finalizzati per la non autosufficienza. Una risposta importante a tanti cittadini diversamente abili che avevano bisogno di un'assistenza e di colpo si erano trovati privi di questo grande e importante aiuto. Adesso con questi fondi andiamo a colmare queste lacune per cui ci sarà un'assistenza continuativa ma soprattutto un'attenzione rivolta verso queste persone da parte mia, da parte dei componenti della commissione a cui dobbiamo dare importanza, spazio e pari opportunità. Un risultato che è stato centrato anche grazie all'impegno della consigliera Alessandra Petri, quindi dicevamo un risultato importante, un obiettivo che gli enti locali e le associazioni attendevano. Senz'altro ma io voglio rassicurare le associazioni, noi non avevamo mai perso di mira la necessità di questa variazione di bilancio e quindi di questa integrazione sia a livello di giunta dell'assessore Paolo Gatti sia a livello dei consiglieri facente parte sia della commissione sanità e sociale sia della commissione bilancio. Quindi è logico, noi siamo coscienti del fatto che sia i comuni sia le persone interessate si siano preoccupate della cosa ma data la situazione economica generale noi fin dall'inizio dell'anno sappiamo che dobbiamo fare delle variazioni di bilancio appropriate per sanare quelle che sono le mancanze iniziali del bilancio approvato il 31 dicembre. Quindi noi avevamo la cosa ben sotto controllo e sapevamo che dovevamo intervenire al riguardo.